In Sardegna, pochi lo sanno, c'è un parco minerario che è considerato un esempio a livello mondiale. Comprende 81 comuni per 3.800 km2 di estensione e una grande varietà di elementi naturali. L'attività mineraria ha origini antichissime, sull'isola ha modellato il paesaggio e anche la cultura stessa degli abitanti. Testimonianze ne sono i villaggi operai, i posti di estrazione, poi migliaia di chilometri di gallerie, impianti industriali, antiche ferrovie e preziosi archivi documentali, racchiusi nella rete parco che si possono visitare. Attenzione però, non ci sono soltanto le opere dell'uomo, qui la natura ha fatto anche dei miracoli. Ci sono delle cavità carsiche, pazzesche, ci sono i faraglioni, ci sono le falesie. Ecco, allora per questa varietà e questa ricchezza il parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è stato dichiarato il primo parco geominerario al mondo. Ah no!